Per quanto riguarda il tema centrale di questa giornata è semplice. Noi siamo partiti con un roster di 11 ragazze il 24 di agosto e purtroppo durante il cammino prima Lea Iagodic e poi Alessia Catapan hanno avuto due infortuni notevoli. Lea è tornata in Slovenia con il problema alla spalla, sta facendo ancora accertamenti ma fra poco farà l'intervento. Alessia poco prima di Natale ha avuto questo altro incidente e per cui di punto in bianco ci siamo trovati con due ragazze del roster in meno. L'esperienza che stiamo facendo in A1 è un'esperienza importante che ci sta provando da un punto di vista di impegno e non volevamo assolutamente mettere la squadra in condizione di essere inferiore da un punto di vista di qualità e numerico con la concorrenza che è agguerrita. Sì, praticamente nel giro di 48 ore si è evoluto tutto e tra una corsa e l'altra ci siamo sentiti il mercoledì e il venerdì sera ero già arrivata qua a San Martino. Quindi, insomma, diciamo che ho visto questa opportunità di venire qua come una grande occasione per tornare in A1 ma soprattutto anche per venire in una società che è molto giovane, che ha voglia di lavorare e che ha delle giocatrici tutte molto giovani e con le quali, devo dire, mi sono trovata da subito molto bene. E niente, speriamo che l'avventura sia veramente positiva come ci auguriamo tutti e come io per prima mi auguro. Praticazione con questo team è abbastanza buona, mi piace questa organizzazione e credo che abbiamo un buon gruppo di giovani. Yeah, I feel like I'm a way better strong player than transforming to college, to professional basketball and getting used to the different rules over here. Well, when I first started in Romania I traveled a lot because the first step is a little different from American. So, I feel like I transform a lot and play better defense and a better offensive player. Sì, diciamo che la fortuna, ci deve qualcosina. Speriamo di aver, anzi senza speriamo, io sono certo di aver azzeccato le persone che ci daranno una grossa mano per quello che è l'obiettivo stagionale. Mi premetto innanzitutto il ringraziamento alla società che ha mantenuto i nervi saldi e il Presidente con tutto il suo appoggio mi ha sempre seguito nelle mie scelte. Abbiamo avuto veramente grandi difficoltà. Questo secondo me ha forgiato anche il gruppo. Il gruppo in questo momento potrebbe essere pronto a fare un deciso salto in avanti di qualità, un cambio di passo. E credo però che avesse necessità anche di avere un riassetto visti gli infortuni che abbiamo avuto. Per quanto riguarda le scelte sono state mirate. Io dal punto di vista umano sono molto esigente. Quindi cerco delle persone motivate, cerco delle persone che vengono nel nostro contesto e si inseriscano nel nostro contesto. Sono certo che le due ragazze che abbiamo qui sono pronte per inserirsi, anzi si sono inserite anche perché il gruppo accoglie le persone nuove in modo straordinario. Come la realtà San Martinara e la società in particolare sono sempre molto vicine alle giocatrici e credo che loro l'abbiano già percepito e sentano l'opportunità che gli viene data come una grande opportunità per la loro carriera. Grazie per la visione!